Una scuola dell'infanzia moderna è dotata di ogni comfort per i bambini e 12 alloggi di edilizia residenziale e sociale destinati a famiglie meno abbienti. Due nuovi fiori all'occhiello per il comune di Biceglie sono stati realizzati in via degli Aragonesi nei pressi dell'ospedale civile. Distanti pochi metri l'una dall'altra le due strutture sono state visitate ieri pomeriggio dal governatore della regione Puglia Michele Emiliano impegnato in un tour cittadino in compagnia del sindaco Angelo Antonio Angarano. Grazie a un accordo di programma davvero importante e innovativo che ha visto riqualificare questa intera zona e quindi creare 12 alloggi di edilizia residenziale e sociale. Una scuola di infanzia che in questo momento particolare è davvero fondamentale perché consente alla città di Biceglie di affrontare l'emergenza covid in maniera efficace consentendo in questo caso al terzo circolo di poter far entrare i ragazzi in completa sicurezza. Strutture scolastiche che in questo momento sono preziosissime perché nei prossimi anni avremo bisogno di più spazi, più distanziamento, maggiore sicurezza. Anche l'urbanistica, il modo di progettare i luoghi rischia di dover cambiare perché il rischio di pandemie in un mondo globalizzato dove tutti circolano velocemente a bordo di aerei, navi, treni, strade, autostrade molto più elevate e quindi Biceglie grazie all'amministrazione comunale si è portata avanti col lavoro. Con l'avvio dell'anno scolastico ormai alle porte e con l'arrivo della prevista seconda ondata di contagi da coronavirus la regione si prepara a riaprire le aule in sicurezza. La Puglia è pronta nel senso che noi abbiamo l'apparato di sicurezza covid forse più attrezzato d'Italia, siamo gli unici ad avere una fabbrica di mascherine di proprietà della ASL di Bari, siamo gli unici ad avere una macchina che fa 10.000 tamponi al giorno e un potenziale teorico che fa 15.000 e forse che può arrivare fino a 20.000 tamponi al giorno. Siamo gli unici ad avere organizzato in pochissimi giorni tutti quei drive-in che servono per fare tamponi a volo dalle migliaia di pugliesi che sono andati in vacanze che si sono in qualche modo infettati. Quello stesso sistema servirà a fare lo screening delle scuole. E quanto all'ipotesi di tampone per tutti gli studenti, Emiliano sottolinea che l'ultima parola spetta al governo. Non è una decisione mia, se fosse per me bisognerebbe organizzare in tutti i luoghi di assembramento, gli uffici pubblici, le scuole, qualunque altro posto dove le fabbriche, bisognerebbe organizzare un sistema di screening permanente. Ma evidentemente la scuola italiana non è in grado di gestire una cosa di questo tipo. La situazione è ancora in divenire e il ministro Azzolina deve evidentemente essere consapevole che di fronte al problema più grosso in assoluto che esiste in questo momento in Italia, la riapertura delle scuole, deve far funzionare la sua macchina nella maniera migliore. Le regioni sono pronte a dare una mano ma non ci possiamo sostituire al ministro.